Greta che stai a fare? Niente Prendi questo, giocaci Papà ma io questo lo conosco È il gioco preferito È molto antico questo, c'è da molti anni Allora voglio fare Facci vedere come funziona Ogni volta Che io cercavo di aprire Questa parte qui che c'è dura Ho scoperto Che nel tappo c'è una cosa appuntita È fatta apposta, la metti dentro Ah, mediante il dietro del tappo Si apre la punta del barattolino Si, si fa molto forte Ecco qua Dove si metteva qua? Si Si fa una pallettina lì, bella rotolata E poi si dovrebbe soffiare È molto pericoloso Da mettere in bocca Da non far giocare i bambini Piccoli Oddio, non è facile Duro Soprattutto in materiale Tappo Questo gioco è bello a fare all'aperto Soprattutto Alla bancarella della scuola Di mattina ho fatto ritardo E allora non ho potuto prendere niente Avevo i soldi Però non ho potuto prendere niente Sono andata a scuola Sono uscita molto triste Per questo fatto Però papà mi ha portato A una cartoleria Però non mi piaceva niente E allora siamo andati in alta E ho visto questo qua Però c'era anche quelle delle carte Pokémon Che io le collezione Vero papà? Sì E mi piaceva tanto L'abbiamo preso e costava con tutti i soldi che abbiamo Anzi Con il resto di 10 centesimi Ricchi oggi Ricchissimi Ricchissimi Questa è bello quando lo scoppiati Che li ha Come si chiama? Ballo 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 Sì Benissimo Wow Riattappa Riattappa Riattappiamo Tu non devi farlo così Piano piano Eccolo E tocca metterne di più Tocca metterne di più Aspetta Tocca metterne di più Ecco Si mette un pochino di più Fatto E sono molto fatti così E ora dovrebbe uscire un bel palloncino Però non lasciate tutto spiaccicato Fate una pallina Così Un pozzo Con il fungo Con il fungo Ah hai messo che ho scurato dietro Sì Perché siamo andati stamattina insieme a Bunchia piano piano Siamo andati insieme a montare la bandita Insieme a montarla a bucato un tubo Wow Adesso a tappa lì Non lo farei più A bucato un tubo però non era proprio proprio Perché erano voi con questi tubi Bellissima Se vede chi l'ha fatto I tubi devono fare giù A tappa sotto E' bellissimo E' una sfera di cristallo Sembra Ok Ciao ciao amici Ciao 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 ciao